Grazie Grazie Si le piazque parlo Eiboi Aierraga Miche 8 con Emelio y no Dos palos una Bravo Que? Se te ve como viene muy guapa Es una bionda que vamos Se te ve como viene muy guapa Dos 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 O Pista Pi Te vee Los Son Parejos Sit Aules Pero yo te he grabo a ti, yo no he grabo el partido eh che? che? che io ti agravo a te e non agravo al partito che io ti agravo al partito che è accionato al partito vien. Vienes! 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 Vale! A ver, però a comunità di qui? A ver, a ver. Va bene, a ver. Va bene fare una meta di portare a Storzi. Visto, Storzi, te volete. O a tu ombra, 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 o a tu ombra? Si, por eso le sono insieme a te ombra. Con un par de campantes. Si le ha contato come se le ha puesto a un esterado, a un esterado, a un esterado. Se le ha venuto a te ombra. Se le ha venuto a te ombra. Van a te ombra. El paleo il Zombie. Arediadling, se le vas. Visto che ne proviamo! Il gruppo di Iriano. Oddio, doria davante silla vortì. Ci vrittiamo da addirizzare a condivwalli su combinazione relativo di G founding, Sebast disorderート di G instituzione, Reha generalizzando lelehre però shapedanya kayalo, Cont 함orc del comunelı migrato e libera delle figure, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.